oh ricky guarda se ce la fai a salire là su dove sono io ci hai venuto avanti ci hai venuto avanti il primo vittorio per aiutare i suoi risultati per primo piano l'ultimo piano più dolore anche per la raga la giunta un giudice ma l'ultimo terzo secondo se non è l'ultimo mi chiamini di tecnicia il porto e dico pericolo pericolo il fatto che cazzo perchè sono giunto è stupido ma che cazzo fa vado solo, vado solo, ho i contributi no no, mi sto guardando mi nascondo, cazzo guarda che cazzo guarda che cazzo guarda che cazzo come faccio? guarda che cazzo si si, posso anche sparare ma guarda che cazzo guarda che cazzo vabbè, è roba brutta aspetta, aspetta aspetta, aspetta aspetta, aspetta, vado sul carro così sono oscuro no, mi sei tolto il bug se esco se esco c'ho di nuovo che cazzo di sole è questa? ora quanti sono? adesso mi ammazzo a mettere in carri faccio più in studio della storia Gabo portami in base, è sicuro Gabo 3 4 4 4 come la prima un po' se scende che non c'è niente non ha visuale se scendo non mi devo dire che scendevo orcodiglia per capire il bug più stupio della storia che poi è niente, non è che ero morto, era morto Richie, no dal nulla proprio ero lì fermo immobile e fanno una scena base no, ma non ho capito che bug era eh, su youtube lo metti su youtube lo vedi è in pratica il bug da terza persona ah, sì, dove è successo il bug? io pensavo ci fosse qualcosa che scatenasse il bug, invece no, sarebbe no oh, c'è uno qua dietro spesa